Con Renzi abbiamo dato il via non solo alla legge elettorale ma anche alla prima importante riforma del nostro assetto costituzionale perché così com'è l'Italia non è governabile. In una telefonata all'Assemblea Provinciale di Potenza del suo partito Forza Italia Silvio Berlusconi ha manifestato ieri tutta la sua soddisfazione per l'intesa raggiunta con il segretario democratico. Finalmente ho trovato qualcuno con cui si può parlare e ragionare ha spiegato il Cavaliere augurandosi che l'accordo possa proseguire con tutte le riforme necessarie al Paese. All'indomani della nuova inchiesta della Procura di Milano che lo vede indagato insieme ad altre 45 persone per corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Rubi il Cavaliere non perde occasione per tornare sul tema della giustizia. Più il mio impegno è rivolto al bene del nostro Paese più incessante e odioso prosegue l'accanimento giudiziario nei miei confronti ha precisato ieri in una nota ribadendo comunque che il suo contributo all'Italia non verrà meno convinto che prima o poi la sua innocenza verrà riconosciuta solo allora gli italiani si renderanno conto della barbarie giudiziaria in cui l'Italia è precipitata. L'accanimento di parte della magistratura nei suoi confronti ha determinato una degenerazione dei principali capisaldi del diritto ha sottolineato Berlusconi un'umiliazione un dolore difficilmente immaginabile da parte di chi non vive l'incubo di accuse tanto ingiuste quanto infondate. A chi mi vuole togliere di mezzo garantiamo che il signor Berlusconi non si tirerà mai indietro ha poi concluso il Cavaliere. Sfoghi a parte il leader di Forza Italia prosegue nel cammino di riorganizzazione del partito con un pacchetto di nomine fra cui quella dell'ormai ex direttore del TG4 e studi aperto Giovanni Toti da ieri consigliere politico per il programma del partito. Un ruolo ridimensionato rispetto a quello di coordinatore unico che Berlusconi aveva ipotizzato. Alla fine infatti il Cavaliere ha dovuto ascoltare le pressioni della vecchia guardia in prima fila Fitto e Verdini contraria a farsi scavalcare da protagonisti dell'ultima ora. Intanto tutto il partito si prepara a festeggiare domani in Puglia i vent'anni dalla discesa in campo del suo leader. Berlusconi non ha ancora deciso se partecipare ma in ogni caso non farà mancare un suo intervento.